Quando è che finirà questo inferno di violenza nel mondo? Quando è che finirà? Quando si plancherà la sfortuna di incontrare il guaio della vita che è la violenza fatta agli altri, fatta ai nostri simili. Oggi si sentono cose assurde, oggi non si può fare più niente, oggi si sentono cose assurde, tanti omicidi, oggi si sentono cose assurde. Tanti omicidi, oggi si sentono cose assurde, quando è che finirà tutto questo? Tanti omicidi, oggi si sentono cose assurde, non si può andare avanti così, non si può andare avanti così, non si può andare avanti così.